Fare fronte comune per rimettere in moto la macchina del PSR, lo ha detto l'assessore alle risorse agroalimentari della Puglia, Leo Di Gioia, durante la presentazione dell'istruttoria preliminare della misura 4.1. Il PSR è fermo non perché la regione è incapace, ma perché ci sono una serie di vicende che hanno richiesto una sorta di arbitrato, che è quello del TAR. Noi innanzitutto ci rimettiamo a quella che sarà la decisione del TAR, sapendo che peserà molto l'istruttoria e il lavoro che gli uffici regionali hanno svolto. Un'istruttoria che presenta una situazione per me assolutamente clamorosa, su 642 aziende, 477 sono escluse, quindi oltre il 73%, credo che sia un dato fuori dalle aspettative e che testimonia che in molti hanno artificiosamente utilizzato il bando per raccontare una performance ipotetica aziendale fuori da quelli che sono i range economici di sostenibilità e di compatibilità. Questo lo ritengo molto grave perché qui non si tratta soltanto di errori, c'è chi avendo intuito che il criterio della performance attribuiva dei punti ha modificato i propri business plan, andando a posizionarsi nei primi 600 posti utili, ma in questo modo tradendo la fiducia di una pubblica amministrazione e compromettendo anche il buon rapporto che un'amministrazione come la nostra deve avere con gli utenti. Chi ha sbagliato verrà punito, verrà escluso e chi ha mentito sulle performance e imbrogliato verrà denunciato. Più di 150 aziende oggi con questa istruttoria dimostrano di avere delle performance molto elevate, equivalenti a quelle che verranno esclusi, però per motivi diversi, cioè sono stati in grado di immaginare delle aziende che o per innovazione tecnologica o per organizzazione sono molto molto competitive, in fondo il PSR a questo deve puntare e mirare. Quello che è scorretto è che invece in molti abbiano alterato sui prezzi, cioè abbiano raccontato di vendere il prodotto a prezzi non veritari, o abbiano pensato che su un ettaro di terra si possono produrre 3-4 volte quello che invece mediamente si va a produrre. Questo rapporto è sleale e va punito e ovviamente verrà oggetto questa attività di una esclusione da parte nostra se la procedura dovesse comunque andare avanti secondo la decisione del TAR o dovrà essere tenuto conto di questa infedeltà nell'ostilare i nuovi bandi dove dovessero essere necessari. Infine Di Gioia esclude categoricamente il disimpegno della spesa. Disimpegno della spesa è escluso, noi già siamo oggi in condizione di dire che abbiamo raggiunto gli obiettivi del 2018 però è paradossale che una regione come la Puglia che ha quasi 450 milioni di euro a valere sulle risorse infrastrutturali debba oggi essere bloccata da una contesa tra prevalentemente studi professionali che tendono a difendere il proprio lavoro anche quando abbiamo visto è assolutamente incoerente o inconglo a danno di una regione che invece deve correre. Cioè noi oggi qui ci troviamo tra fazioni di agricoltori che sono pro e contro questa graduatoria armati dai propri tecnici in funzione di un'aspettativa tutta privata e tutta personale. Per me questa cosa è assolutamente intollerabile nella nostra regione soprattutto alla luce di un'istruttoria che evidenza che la maggior parte di quelli che partecipano imbrogliano che la maggior parte di quelli che partecipano non sono in grado di essere leali e fedeli e rispondere a un bando che invece è stato costruito per dare l'opportunità a chi è performante di vincere. Questa cosa credo che sia un'onta da doversi ovviamente lavare con quella che sarà la sentenza del TAR. Se il TAR validerà la procedura e ci consentirà di escludere queste persone noi già saremo molto felici e soddisfatti. Se ci chiederà proprio perché sono troppi quelli che hanno imbrogliato o che hanno sbagliato o che hanno alterato di dover rifare le procedure dovremo essere ovviamente veloci e sicuramente dovremo espungere quelle clausole che sono oggetto di mistificazione cioè scrivere dei bandi un po' più semplici che però ci consentano di andare in maniera un pochettino più rapida.